In occasione del diciottesimo concorso La Gorgone d'Oro, la cui premiazione avverrà il prossimo 23 giugno a Gela alle 18.30 nel teatro Antidoto, la scrittrice catanese Lucia Andreano riceverà il premio La Gorgone d'Oro per la pace. Si tratta di un riconoscimento che viene conferito ogni anno a personalità impegnate a capire i temi dell'immigrazione e che si spendono per favorire l'integrazione. Di fatti la scrittrice, che nel suo libro a mani nude racconta la storia di un immigrato albanese giunto in Sicilia da clandestino negli anni 90, ha avuto la capacità di aver toccato diversi temi legati ai diritti umani. Lucia Andreano è autrice di saggi letterari e collaboratrice di manuali di letteratura per le scuole. Dopo aver conseguito vari master e specializzazioni in tecniche di scrittura e della comunicazione, ha insegnato nei laboratori di italiano scritto all'Università di Catania ed è stata docente di corsi professionali per l'alta formazione sulle nuove tecniche di scrittura e comunicazione. Si è occupata di progetti riguardanti l'educazione alla legalità, la dispersione e l'integrazione sociale attraverso l'uso del linguaggio scritto. Grazie a tutti.